Si arricchisce di nuovi e clamorosi dettagli la vicenda che riguarda i presunti rapporti tra l'Andrangheta calabrese stanziata in Piemonte e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli. Nuovi elementi infatti sono arrivati in queste ore, documenti che di fatto mostrerebbero due intercettazioni telefoniche tra lo stesso Agnelli e Rocco Dominello, figlio di un boss dell'Andrangheta e pubblicate dall'Affiton Post. I documenti di fatto contraddicono quanto affermato dall'avvocato della Juventus Luigi Chiappero nell'audizione in commissione antimafia e sono contenuti nel riferimento del procuratore della FIGC Pecoraro avvenuto in settimana. Tutti elementi che hanno spinto l'ex prefetto di Roma ad aprire un progedimento sul fronte della giustizia sportiva. Secondo Pecoraro non solo Agnelli era consapevole dei rapporti strutturati e delle concessioni fatte in favore dei gruppi del tifo organizzato e di presunti esponenti malavitosi, ma che acconsentiva a tale condotta. C'è poi le intercettazioni in cui Agnelli ha colloquio con il responsabile sicurezza della Juventus Alessandro D'Angelo e in cui si parla chiaramente di un incontro tra Agnelli, Dominello e altri ultra presso la Lamse SPS Holding controllata dallo stesso Agnelli. Più avanti nelle intercettazioni il patron del club bianconero si riferisce alla rivendita di biglietti forniti dalla società. Loro comprano quello che devono comprare, a noi ci pagano subito e poi gestiscono loro. Insomma, una situazione che appare ben diversa da quanto affermato dallo stesso Agnelli nei giorni scorsi quando aveva negato ogni rapporto, un atteggiamento che aveva infastidito Rosi Bindi accusando il club bianconero di negare l'esistenza delle cosche favorendone così l'ascesa.